Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono due chilometri di coda in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo Fiorentino. È chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Per lavori anche un chilometro di coda tra Pisa Nord-Est e Cascina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a uno di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!